Quali sono i servizi gratuiti? Il primo, il più importante, quello che ha un valore enorme che però purtroppo non è compreso bene dagli artisti è il posizionamento su un autore di ricerca. Che vuol dire? Piunque di noi oggi qualunque cosa voglia acquistare va su Google e fa una ricerca. Ok? E generalmente che cosa fa? Supponiamo che io voglia acquistare dei colori ad olio, vado su Google, cerco colori ad olio, vendita colori ad olio, vado a vedere il primo risultato, il secondo risultato, il terzo risultato al massimo, entro in questi siti, se trovo quello che mi interessa possibilmente lo compro. Se non trovo la cosa che mi interessa non vado a scorrere la lista dei risultati ma piuttosto cambio ricerca. Anziché cercare vendita colori ad olio magari cercherò vendita colori ad olio mai meri perché so che è quella la ricerca che mi interessa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se quando io faccio una ricerca il mio sito web o la mia presenza non è ben visibile ai primi 4-5 posti su Google, di fatto è come se io non esistessi. Posso avere il sito più bello del mondo, posso essere posso essere l'artista più bravo del mondo ma è come se io non esistessi.